Via del Corpo Italiano di Liberazione, immediata periferia di Sernia. Si tratta della strada che conduce all'Università di Pesche partendo dal centro commerciale in piazza. Dopo il tramonto, il buio e pesto, manca completamente l'illuminazione. A dire il vero un paio di pali sono anche stati installati, ma tendono ancora di essere collegati alla rete elettrica e così la possibilità di fare brutti incontri nella zona aumentano in maniera esponenziale. Che siano malintenzionati o cinghiali, i rischi connessi all'oscurità sono elevati. I residenti protestano e chiedono all'amministrazione comunale di intervenire al più presto perché, dicono, pagano le tasse come i cittadini del centro della città, ma si sentono i sernini di serie B. E sta succedendo che, giustamente, vedendo l'illuminazione lì ci siamo risentiti e qua ci stanno 10 famiglie, ci abitiamo. La sera incontriamo i cinchiali e quindi è pure pericoloso. Mi sembra che non è una cosa giusta fatta così. Hanno illuminato la strada intorno allo stadio, fino quasi alle sorgenti del Sordo, dove ovviamente non c'è nessuno. Invece qui, che è una zona residenziale, dove ci sono famiglie, case e ci hanno lasciato completamente al buio, insomma. Hanno iniziato a mettere un paio di lampioni e poi si sono fermati, dicendo meglio iniziare e lasciare così piuttosto che non iniziare affatto, però in realtà o inizi o oppure no, insomma. È una strada a scorrimento veloce, quindi comunque le macchine qui corrono tantissimo, tutto il giorno, la notte ancora di più. E poi la strada sopra non è illuminata, quindi è illuminata fino a un certo punto e poi se uno volesse andare a fare una passeggiata, chiaramente la strada ti dà l'impossibilità di andare oltre. Quindi una giornata d'estate come questa uno poteva tranquillamente andare su e invece ci si deve fermare perché non c'è luce. Abbiamo cercato di far sapere questa cosa, perché non avevano messo l'illuminazione anche a noi. Voce passata dice che non hanno più soldi, però poi hanno fatto altre 5-6 pali qua, una traversa che ci stanno due o tre famiglie e arriva anche un po' di luce dalla strada che porta all'università dai Lampioni, perché le case si trovano abbastanza vicine alla strada. Hanno messo un altro paio di pali qua e noi 7-8 famiglie qua ci hanno lasciato al buio. È una strada molto trafficata, ci passa la gente per necessità che collega ad altre altre zone e poi ci vengono proprio a camminare tante persone, di giorno, di sera, sempre. E più la notte ci sono gli animali, ci sono tanti cinghiali perché essendoci il fiume è un abitante perfetto per gli animali. Chiediamo che ci sia un'illuminazione più consona alla strada e che chiaramente ci siano anche più controlli per quanto riguarda anche la viabilità, perché è una strada molto molto pericolosa, nonostante le strisce pedonali, ma comunque bisogna stare attenti. Oltre ai residenti ci sono anche persone che vengono a correre oppure in bicicletta e capita spesso di incontrarle al buio, la notte, anche persone che non hanno protezioni illuminate e quindi tu o la macchina puoi anche non vederle oppure vederle all'ultimo momento. Già ci è capitato che diversi cinghiali sono sbucati all'improvviso, magari con l'illuminazione uno può vederli prima e evita di prenderlo. Non c'è luce, quindi è una strada che comunque non ti dà la possibilità di andare a piedi. Proprio che ci sia un'illuminazione più consona alla strada, perché se ci sono dei lampioni ci deve essere anche l'illuminazione per dare la possibilità a tutti di camminare.